Rissa venerdì sera in corso Vittorio Emanuele tra i migrati e Nisseni, un episodio che ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato il 113. Giunti sul posto, i poliziotti della sezione volanti hanno trovato un immigrato disteso a terra in stato di incoscienza e con il labbro sanquinante attorniato da numerose persone. L'uomo, un 27enne iracheno richiedente protezione internazionale, è stato soccorso e condotto dall'ambulanza al Sant'Elia. Alcuni testimoni hanno riferito ai poliziotti che poco prima l'immigrato era stato aggredito da quattro persone vicino ad un bar della zona, fornendo anche una loro sommaria descrizione. Scandagliate le pattuglie in città, in via a consultore e benintenti gli agenti notavano due giovani, un 26enne e un 28enne, già noti alle forze dell'ordine. Fermati, identificati e sottoposti a perquisizione personale con esito negativo, i due riferivano ai poliziotti che nel corso della serata erano stati avvicinati vicino a un bar dall'immigrato, visibilmente ubriaco, che aveva tentato di aggredire uno dei due con un bicchiere rotto, costringendoli così a difendersi. L'iracheno, che non ha riportato lesioni, è stato dimesso l'indomani mattina dopo aver smaltito la sbornia. Controlli a tappeto anche questo fine settimana al mercatino settimanale di Pian del Lago, della Polizia e della Polizia Municipale, per reprimere l'attività di posteggiatori abusivi da parte degli immigrati, che sono soliti chiedere insistentemente denaro agli avventori. Controlli concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e mirati inoltre a verificare la regolarità del permesso di soggiorno degli stranieri e l'abusivismo e la contraffazione dei commercianti. Celava all'interno degli slip un involucro di cellofan contenente 0,5 grammi di marijuana, uno dei tre passeggeri, tutti disoccupati e con precedenti di polizia, a bordo di una Ford Fiesta fermata dai poliziotti in via Redentore sabato pomeriggio. Gli uomini infatti mostravano segni di inquietudine che insospettivano gli agenti che decidevano così di procedere alla perquisizione personale, stesa poi anche al domicilio dei tre disoccupati, quest'ultima con esito negativo. Il 26enne trovato in possesso della marijuana è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.